Assessore Antonini, il bando investimenti produttivi, come si dice nel gergo, sta mettendo a terra i propri risultati? Sì, mi sembra abbastanza evidente. Testimonianze dirette. Ringrazio Marco Luppa, ringrazio tutto il gruppo che è dietro alle concerie del Chienti, anche perché rappresentano ormai stabilmente una storia delle marche di Tolentino e che guardando a una tradizione, comunque a una capacità imprenditoriale importante, però sanno perfettamente intercettare quelle che sono le nuove opportunità che da un punto di vista il mercato ormai richiede soprattutto per la competitività. E quindi parlare di sostenibilità circolare, presentare quindi anche delle nuove opportunità, cercando di fare anche rete come loro stanno facendo, io penso che con la Regione è ben felice di poter contribuire per progetti che guardano quindi al passato, a una storia, però chi vuole appunto fare, essere moderno, essere competitivo nel mercato di oggi.